Dopo Valentini Group e Utensil Centro, ecco la terza azienda del territorio che nel giro di un mese e mezzo entra a far parte del consorzio Pesaro Basket a supporto della VL. Si tratta del gruppo pesarese di costruzioni Edilti. VL e amministrazione comunale hanno oggi dato il benvenuto in municipio a quella che è la 31esima realtà imprenditoriale, in ordine di tempo, a entrare a far parte del consorzio. E' la terza azienda di sei nuove aziende che entrano nel consorzio. E' un'azienda di costruzioni che non era presente fra le aziende attuali del consorzio, che aderisce, mi sembra in modo molto convinto, le motivazioni che ha portato sono le seguenti, e cioè lui si sente in quanto pesarese di aderire a un progetto che condivide e che secondo lui deve continuare a crescere. Quindi è una bella motivazione che ci fa ben sperare anche per il futuro. Siamo un'azienda pesarese che opera nel settore da oltre 20 anni e facciamo un po' di tutto, quindi residenziale, commerciale, piuttosto che industriale, impianti tecnologici come impianti carburanti e un po' l'edilizia di 360 gradi. Diciamo che noi siamo venuti a conoscenza di questo progetto sia l'anno scorso, perché non siamo entrati nel consorzio, però abbiamo sponsorizzato la VL. Quest'anno, parlando appunto con Franco e con Ario, mi hanno illustrato le intenzioni, il progetto, anche gli obiettivi che si sono posti poi per quest'anno, e devo dire che ci hanno un po' conquistato e quindi abbiamo deciso di entrare nel consorzio Peselo Basket.